Le Maldive, un paradiso tanto ambito da coloro che amano il mare e la natura incontaminata. Perché optare per un tour all-inclusive e viaggi organizzati per godersi appieno queste meravigliose vacanze? Scopriamolo insieme, sia che tu stia pianificando un viaggio di nozze o la tua prima avventura solitaria. Questo arcipelago di isole coralline offre una varietà sorprendente, ben al di là delle immagini stereotipate sui cataloghi turistici. Solo con una guida esperta è possibile coglierne appieno la bellezza e la diversità. Benvenuti su Spunti di Viaggio, nei video di oggi esploriamo i motivi per prenotare un viaggio organizzato alle Maldive. Innanzitutto, con un tour organizzato non devi preoccuparti dei trasferimenti da e verso Malè, la capitale dell'arcipelago. Tutti i voli internazionali atterrano qui e i trasporti verso le isole vicine sono già inclusi nel pacchetto. Per le isole più remote, il volo in idrovolante può essere costoso se prenotato separatamente. Molti tour operator consentono ai viaggiatori di trascorrere una notte a Malè per esplorarla, offrendo così una visione più completa delle Maldive. Questo arcipelago è una mosaico di isole diverse, alcune private con resort lussuosi, altre ancora abitate dagli indigeni, dove la natura selvaggia offre un'esperienza autentica e unica. Con un viaggio organizzato, puoi visitare sia le rinomate isole private, celebri per le loro spiagge bianche e acque cristalline, sia quelle ancora abitate dagli indigeni. Queste ultime sono consigliate con una guida locale per apprezzarne appieno le meraviglie naturali e culturali. Le escursioni sono spesso incluse nei pacchetti, ma puoi personalizzare il tuo viaggio con esperienze come immersioni nell'attollo di Ari, per avvistare mante e balene, o lo snorkeling per esplorare la barriera corallina. Inoltre, molte isole offrono sport acquatici come il kayak. Un viaggio organizzato garantisce un'esperienza dinamica e personalizzata, in linea con i tuoi interessi e il tuo stile di viaggio. Inoltre, è un'ottima occasione per fare nuove amicizie, specialmente per chi viaggia da solo. In conclusione, le vacanze organizzate alle Maldive offrono un'esperienza senza eguali, permettendoti di esplorare le diverse anime di questo paradiso terrestre in modo sicuro, completo e indimenticabile. Grazie per aver visto il video. Alla prossima avventura!